Eccomi qua, lungo questo tragitto paesaggistico naturale, sono giunto in questo posto stupendo. In questo posto stupendo qui abbiamo raffigurato come scultura in legno il mitico figliol prodigo. Questo qua è il mitico figliol prodigo Lettone e poco più avanti abbiamo la sua famiglia. Cosa sta a simboleggiare questo posto? Questo posto sta a simboleggiare il ritorno del figliol prodigo nella sua casetta. Qui abbiamo la famiglia, lì abbiamo la babushka, questa qui è la madre perché la società Lettone è basata sul matriarcato e qui abbiamo il padre. Questo qua è il ritorno del figliol prodigo nella Lettonia.